vi stiamo dando la chiave santa maria delle mole attraverso roberta s 9 marzo 2010 a cura di vb guide l'unica cosa che vorremmo ricordarvi e di essere un po più presenti nei vostri momenti e di vivere in maniera più totale anche i piccoli gesti della vostra vita quotidiana perché da lì risolverete tutti i vostri problemi e quindi non vi stiamo dicendo un qualcosa che vi rende solo più sereni ma vi stiamo dando la chiave della vostra esistenza vi diciamo che se siete presenti in questo momento saprete muovervi nella vostra vita e saprete anche riconoscere le persone che fanno parte della vostra vita da quelle che invece sono solo di passaggio se invece vi perdete nel pensiero di dover fare poi di dover essere poi rinviate i vostri pensieri oppure siete concentrati su qualcosa che dovrà accadere perché quello di adesso non vi piace allora vi diciamo che in quel caso non vi recupererete nel momento che credete perché solo ora può succedere il cambiamento ed è solo nel vostro presente che voi troverete la vostra esistenza che vi ritroverete non può essere un qualcosa da rinviare una meditazione a una riflessione globale a un percepire un momento particolare sotto una condizione particolare non avete bisogno di fare chissà quale meditazione né di avere chissà quanto tempo a vostra disposizione perché noi vi diciamo che in realtà è proprio il vostro modo di impiegare il tempo nella vostra giornata che vi distingue gli uni dagli altri dunque sarà il vostro preparare da mangiare a farvi fare una meditazione in grado di portarvi anche a comprendere il senso di quello che state facendo Grazie a tutti